Ma quando esce la quarta stagione di Mare Fuori? Ciao, io sono Valerio Novara. Oggi parliamo un po' di quelle che sono le anticipazioni della quarta e quindi della prossima stagione di Mare Fuori, perciò volevo fare un video riepilogativo su tutto quello che c'è da sapere quando esce la nuova stagione, chi ci sarà dei protagonisti nel cast e quello che potrebbe succedere dopo il finale che abbiamo visto della terza stagione. Vi ricordo che se non avete ancora visto le prime tre stagioni di Mare Fuori, in questo video ci sarà qualche spoiler, quindi mi raccomando, prima finitela di vedere e poi venite a sentire tutte le anticipazioni e le teorie, insomma, dei fan su quello che potrebbe succedere e parlerò un po' di quello che è venuto fuori dalla produzione, perché qualcuno ha fatto uscire qualche succulenta anticipazione. Come al solito, Mare Fuori è una delle serie di cui ci occupiamo di più su Ciacchiazione, abbiamo già fatto alcuni video e oggi parliamo di Mare Fuori 4, in molti si stanno chiedendo quando uscirà la prossima stagione dopo lo strepitoso successo che hanno fatto le prime tre stagioni di casa Rai. Diciamo subito che le riprese stanno per iniziare, inizieranno a maggio di quest'anno, maggio 2023, quindi ci vorrà un po' prima di vedere Mare Fuori 4 su RaiPlay e poi sulla Rai e infine su Netflix. La quarta stagione presumibilmente dovrebbe uscire fra gennaio e febbraio del prossimo anno, quindi del 2024. Il massimo che si può arrivare, secondo delle fonti molto attendibili, è addirittura maggio 2024. Però, insomma, inizio dell'anno prossimo vedremo la quarta stagione di Mare Fuori che, come al solito, verrà messa prima su RaiPlay, poi andrà in onda una volta a settimana sulla Rai e, infine, arriverà su Netflix. Tra l'altro su Netflix ancora deve arrivare la terza stagione. Ma soprattutto, ma chi ci sarà nella quarta stagione di Mare Fuori e di cosa parlerà questa stagione? Allora, diciamo subito che i ragazzi stanno crescendo, le prime tre stagioni hanno esplorato la vita all'interno di un carcere minorile, quindi il passaggio dall'adolescenza all'età adulta di questi ragazzi che sono stati, insomma, imprigionati all'interno di questo carcere minorile e la serie continuerà a parlare di molti di loro e della difficoltà del diventare adulti. Quindi si cominceranno anche a vedere delle vicissitudini dei protagonisti nell'età adulta. Purtroppo molti membri del cast che abbiamo apprezzato nelle prime tre stagioni non ci saranno, a partire da Filippo e Nadizza. E devo dire che ci sta anche la scelta di far uscire di scena questa coppia, alla quale ero affezionatissimo e alla quale eravamo tutti molto affezionati. Filippo e Nadizza già nella terza stagione avevano un po' chiuso il cerchio della loro storia e nelle puntate finali della terza stagione si vede proprio che Filippo saluta in un modo anche molto accurato, con molto pathos, tutti i compagni di questo viaggio. C'è quella camminata per uscire definitivamente dal carcere minorile che è stata molto emblematica e tra l'altro lui camminando e salutando i suoi compagni nel carcere rivede anche coloro che invece non c'erano più. E diciamo è stata una conclusione giusta per un personaggio oghiattillo che ci ha fatto veramente appassionare e devo dire che anche l'interpretazione di Nicolas Maupas è stata davvero notevole anche perché pensateci dalla prima puntata Filippo da Milanese, bravo ragazzo anche se poi insomma gli succede quello che gli succede e quindi viene incarcerato cambia completamente, cioè alla fine della terza stagione diventa un'altra persona e quindi anche grazie all'interpretazione di Nicolas Maupas e devo dire è stato un gran bel personaggio allo stesso modo Nadizza che già alla fine della seconda devo dire era un personaggio che comunque aveva detto quello che aveva da dire e secondo me non si è trovato un racconto proprio per questi due protagonisti anche all'esterno del carcere, cioè molti si chiedono ma perché nessuno l'ha cercato quando stavano fuori? È vero ci sono alcune domande che sono rimaste un po' così, un po' sospese su cui si poteva lavorare meglio, si potevano esplorare anche diciamo una fuga al di fuori del carcere un non so, una cattura da parte della polizia, la voglia di catturarli, il desiderio di nascondersi potevano farlo un po' più avvincente quella parte, però insomma abbiamo apprezzato tantissimo questa coppia di cui ci ricorderemo sempre con affetto. Altro personaggio che non ci sarà sarà Carolina Crescentini, la direttrice Paola del carcere sostituita dall'attrice Lucrezia Guidone Sofia nella terza stagione non tornerà la Crescentini e è stato uno dei personaggi principali delle prime due stagioni, delle prime tre stagioni anzi e devo dire insomma che la Crescentini era stata un po' messa lì come big, già attrice, già conosciuta e invece paradossalmente sono venute fuori anche le professionalità e le capacità recitative di altri protagonisti come quelle di Carmine Recano, il comandante, di Massimiliano Cagliazzo, di Giacomo Giorgio che interpreta Ciro Ricci. Tra l'altro tra poco faremo anche un punto della situazione sulla teoria che continua a girare sul ritorno di Ciro Ricci nella quarta stagione. Ma andiamo con ordine, tra i personaggi che non ci saranno, Viola che è morta alla fine della terza stagione, Gemma, nemmeno Sasa tornerà, la sua storia è stata mozzata dalla Rai dopo che c'era stata quella scena dello stupro, insomma lui era stato messo in carcere per lo stupro, erano entrambi minorenni, la Rai ha deciso di tagliare la sua storia e di non parlarne, quindi nemmeno nella terza lo vediamo, per una decisione dei vertici Rai. Tra le domande rimaste irrisolte ci sono sicuramente la sorte di Edoardo che alla fine della terza stagione viene ferito ed è in ospedale e anzi avrà gli occhi alla fine dell'ultima puntata, ma tutti vogliono sapere che cosa è successo sul finale della terza stagione di Mari fuori, quando Carmine e Rosa Ricci per un permesso, grazie a un permesso, escono dal carcere, si vedono fuori dal carcere, si baciano, a un certo punto però arriva Don Salvatore Ricci, il padre di Rosa, con una pistola in mano. E diciamo, questo momento, questo frangente, la produzione ci ha lasciato con un cliffhanger glamoroso, cioè non ci fa capire, perché noi udiamo poi uno sparo e non vediamo che cosa è successo, se qualcuno è morto, se qualcuno è rimasto ferito. Tra le prime indiscrezioni, Davide Maggio, che è uno dei siti più attendibili sulle anticipazioni tv, ha fatto sapere che non sarà Rosa Ricci a morire e che l'attrice Maria Esposito tornerà nella quarta stagione, quindi una sicurezza ce l'abbiamo che Rosa Ricci comunque non è stata colpita e che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato colpito lo stesso Don Salvatore Ricci, ma che non morirà perché Carmine si metterà in mezzo e lo salverà paradossalmente. Ma questa è la storia della sua vita. Per quanto riguarda il ritorno di Ciro, allora faccio una premessa. A me la morte di Ciro non aveva convinto e quindi, come molti altri alla fine della prima stagione, per questa coltellata, tra l'altro nemmeno al cuore, al petto, allo stomaco, in testa, ma una coltellata ai reni da parte di Filippo, mi hanno fatto morire Ciro in un modo abbastanza sorreale, anche perché ci sono stati altri colpi e a persone che invece poi non sono morte, lo stesso Carmine, lo stesso Edoardo, cioè per colpi anche più mortali, e mi aveva lasciato un po' così. Hanno fatto sparire Ciro e la gente si è affezionata ancora di più a Ciro. Molti pensano che possa tornare Ciro non solo per questo, che questa è una mia opinione, ma per una foto che è circolata sul web, che vede il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio con una pistola in mano che scende una scalinata in un luogo abbastanza buio e che molti hanno messo, insomma, hanno relazionato con l'ambientazione del finale della terza stagione, pensando che tornasse Ciro con questa pistola e che sparasse e che uccidesse qualcuno dei tre presenti che abbiamo visto appunto nel finale. Lo stesso attore ha detto non l'ho fatta uscire io, questa foto è stata decontestualizzata rispetto a quello che viene narrato alla fine della terza stagione di Marefuori. La produzione Rai ha detto che non ci sarà alcun finale alternativo perché c'era anche quest'altra storia che circolava, ovvero che la Rai avrebbe fatto vedere un finale della terza stagione di Marefuori sulla Rai il mercoledì in cui Ciro era vivo e che tornava. In realtà la Rai ha detto che non c'è alcun finale alternativo, si è optato per avere una coerenza temporale anche perché far riesumare personaggi che sono morti può essere un'arma a doppio taglio per una serie di V, stiamo a parlare dei Marefuori, not the beautiful, quindi è ovvio che c'è coerenza se Ciro l'hanno fatto morire, abbiamo visto sulla barella coperto il cadavere e come a tutti gli effetti c'è stato il funerale, a tutti gli effetti non avrebbe molto senso. Fermo restando che la morte di Ciro mi ha lasciato molto con l'amaro in bocca, è stata molto strana. Quindi staremo a vedere, l'attore ha negato, la produzione Rai ha negato, fatto sta che la gente si è affezionata tantissimo, molto a Carmine quanto a Ciro. Insomma, ditemi anche voi cosa ne pensate, se siete d'accordo con queste teorie e se vi aspettate dei colpi di scena nella nuova stagione di Marefuori iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è anche azione, se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina per restare aggiornati con le notifiche, seguiteci su Facebook e su Instagram dove ogni giorno parliamo di cinema e serie di V. Al prossimo video!